Ciao a tutti i cuoricini! Io sono Vanessa, lei è alta! Ciao a tutti i cuoricini! Guardate questi bellissimi pulcini! Sono Cristian Farris, tienilo bene, attenzione! Guardate quanto sono cresciuti! Ma mamma, dobbiamo lasciarli a mangiare! Sì, 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 lasciateli giù che vanno lì a mangiare l'erba! Cosa le stai facendo? Ti dai un vaccino! Mi sei addormentato! Come sei addormentato? Guarda, si è addormentato veramente! Cuoricini, oggi andremo in Italia! E' finita la nostra vacanza! Come vedete qua giù andremo a incontrare qualcuno! Ancora non possiamo dirvi niente! Ma dovete guardare il video fino alla fine e vedrete chi incontreremo domani! Vanessa! Mamma! Dimmi! Sì, anche a scuola, sì! Vanessa, attenzione! Lascialo giù, amore! Così lui va, saluta, ciao, bel pulcino! Guarda, saluta a te! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ok, dai! Mettilo giù! Piccolino! Vanessa! Ciao! Vanessa! Dai, mettilo lì! Ma questo pulcino si è noto la zampa! No! Guardate lui! Salute! Ecco! Salute! Ciao, ciao! Ciao, bellissimi pulcini! E dico qua, i nonni li dobbiamo salutare! Bimbe, avete salutato i nonni? Ma come ciao, Erika! Salutate la nona! Anche tu, papi! Ciao, dai, salutati! Io rimango qua! Voi andate a salutare? No! No! Ci vedremo! Ci dispiace tantissimo! Se vi dico la verità, a me questi saluti non mi piacciono molto! Ci vedremo, ci vedremo! Piccolino, siamo alla frontiera! Veramente, c'è un casino qua! Un casino! È venuta la polizia, ha preso... i nostri passaporti, ha guardato Erika, Vanessa, tutti che sono qua in macchina, per poter passare lì, in Romania. Giusto? Buonanotte, 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 buonanotte! Entriamo, ragazze? Guarda! Mamma mia! Ma è tutto pieno qua! Sono tantissimi, veramente tantissimi, veramente tantissimi! E' tutto pieno, c'è due vogli cancellati! No, sono tre! Tre vogli cancellati, due che devono partire, il nostro fra un'ora. E stanno arrivando, c'è tanta gente! Arriva tanta gente! Sì, vi voglio far vedere, ecco, vi voglio far vedere! Guardate anche voi, cosa c'è qua! È pieno, tutto pieno! Sì! Vai Vanessa, dammi la manina! Fai attenzione! Brava! Buonasera! Guarda, si spendono anche le luci! Guardate che grande! Siamo pronti per il decollo, come benvenuti qua sono le luci bianche, vi sicuro l'aereo è già pronto. Preparatevi anche voi a vedere il panorama! Ecco! Sì, ci sono! Guarda! Buongiorno coricini, come ben vedete siamo in macchina perché andremo a incontrare, a incontrare, vi voglio mostrare una cosa e vedremo se indovinerete chi incontreremo oggi. Vi do un spuntino e voi scrivete giù i commenti e vediamo se avete indovinato o no! Eccoci qua! Dove andiamo? Papina, cosa dici? Indovineranno i nostri coricidi? Io sto di sì! Anch'io! Come vedete, come vedete Erika sta dormendo, ha anche Vanessa, eccole lì, stanno dormendo. Poverine stanchissime, anche noi molto stanchi perché siamo arrivati questa notte alle due di notte a casa. Cioè, questo viaggio è stato bello ma al ritorno c'era un casino, un casino, tutto pieno, voli cancellati. Coricini, voglio leggere tutti i vostri commenti e vediamo se indovinerete chi incontreremo fra poco. Restate con noi! E ti bacini! Eccoci qua! Vediamo se la troviamo. Vieni qua! Io l'avevo vista! E lì! No? Guarda a destra! Vai avanti! Ancora più avanti! Ancora più avanti! Ed eccola lì! La vuoi spaventare? Ciao! Ma ciao! Le bimbe volevano salutarti prima di cominciare tutto. Ti hanno visto subito! Come stai? Sei pronta? Sì! Sei pronta a carica? Come è stato ieri? Sto bene? Sì! Emozionante! Ecco, le bimbe non vedono l'ora di incontrare anche la tua mamma, il tuo papà li vedono lì fuori che stanno preparando tutto. Lasciamo tranquilli, noi ci vediamo anche dopo! Coricini, avete visto prima del prelisto, praticamente siamo venuti alla firma copie di Las Lunas e dobbiamo aspettare ancora un pochino, siamo venuti in anticipo e niente, prendiamo forse un gelato, qualcos'altro vedremo. Ciao! 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 Allora, all'appello oggi abbiamo il nostro firma copie per il nostro libro, Las Lunas, la mia vita e la sirena. Sono venuti tutti perché sono degli amici e ci vogliono aiutare Grazie E ve li presentiamo All'appello abbiamo Letizia Buonavere Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Allora per cortesia Papà Nico, mamma Patty e Letizia Abbiamo già abbastanza guai Scusa che ti spacchi la gamba E poi c'è da male Stai seduto qui Papi Stai seduto qui E dopodiché abbiamo qui con noi Sofie e Ile La Youtube Come parlo? Scusate Youtube è pazzo Più pazzo ce l'abbiamo noi qua Ok, grazie per essere venuti Ma non è finito Ultimi, non ultimi Abbiamo anche Erika Emane A lei Emane Emane Abbiamo anche i cini coricini Viva le stringe Emane Ma qualcuno mi aiuti a cantare? Io canto Allora tu canti Io canto Chi è che sa cantare? Ragazzi Ragazzi veramente ci dovete aiutare Allora, io sono qua a chiedervi, iscrivetevi al canale. Canale? Ma quale canale? Al canale di chi. Sì, ma di chi? Las Lunas! Non so più quale telecamere, guardate, Sofì. E poi cosa bisogna fare? Dopo che ti iscrivi bisogna di... Lasciare un pollicione. Vai, lasciare un pollicione, clicca in su. E attivare la campanella. E quindi ragazzi, adesso abbiamo bisogno della vostra forza e cantare. Disco, disco, party, party, disco, disco, party, party, disco, disco, party, party. Danza libera! Uh, danza libera! Vai! Scusa! Ma scusa! Ma scusa! Ma che sono, ne ho scontri? Ne ho scontri, ma... Ma voglio dire il posto! Ma siamo impazziti! Questo non è un film a copia di pazzi, per favore. Facciamo fin di essere bravi, dai. Allora. Buongiorno. Noi siamo... Sop in money. Delle persone molto serie. Cioè noi non facciamo mai disastri. Mai. Siamo sempre... Mutuali. Facciamo tutto giusto. E noi non sbagliamo mai. Quindi non possiamo ballare e cantare perché siamo serie noi. Siamo persone molto affidate. Quindi vi accoglieremo... Buongiorno, signorina. Buongiorno. Buongiorno. Saluta a tutti. Buongiorno. Facciamo un po' di pontone, ragazzi. Un po' di pontone. Yeah! Pazzia! 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 Va bene. Facciamo un po' di fila. E ci vediamo lì? Eh? Va bene. No. A braccio di gruppo. E' forte con l'abbraccio di gruppo. Vai, abbraccio di... Abbraccio di gruppo! Che è che ci fanno fatto dall'alto? Dai, dai, mamma Ile ce la fai! Dai, dai, Erika! Mentre si aspetta qua... Ci divertiamo tutti insieme! Guardate chi c'è qua! Sono tutti youtuber! E con la mamma di Letizia, c'è papà Nico. Tutti insieme! Ciao! Ciao! Abbiamo un documento equilibrista. Brava, brava! E' un documento equilibrista che parliamo di metà equilibrista, ma guardate... Carica! Vediamo, vediamo... Ci riesci, ci riesci! Dai che ci riesci! Uh-huh! Ma cioè noi mamme non ce la possiamo... No, no, no... No, no, no... No, no, no! Qual è colpa di tutte le caramelle mangiate? Eh, vedi! Non fanno rimanere il libro sotto la testa? No, 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 no! Te stai barando, secondo me stai barando? No, 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 no! È bravissima, guardala! Carissime! Carissime! Erika! Che bello! Vanessa, giusto? Sì! Vai, continua con il botto! E io firmo qua con la tasturina! E io scrivo di qua, mi metto sotto per fermare! Ma guardate che bello! Che carino! Dava, andiamo a mangiare! Sì! Dai, mi chiamo! Sì! Sì! Sì, io ho fame! Ho fame! Tutti hanno una fame! Eh, abbiamo un sacco di youtubers oggi, eh! Sì! Che bello! Sticker! Guarda che bello! Sono anche il sticker! Grazie! Adesso lo puoi mettere qua! Lo mettiamo qua! Lo puoi mettere sul giallo! E' bello che mettili qua e poi dopo ve li dividete! Facciamo una bellissima foto! Ciao, mamma! Grazie a tutti.